Noi presentiamo questo progetto del gruppo Cinofilo Dauno che inizierà il 9 aprile, quindi fra qualche giorno, Amici Dentro. È un progetto che assieme ai nostri animali, ai nostri cani, ai cavalli che abbiamo a Rengetuoro con Pasquale Campanile, i cani con i nostri conduttori, col partenerato di altre associazioni, saremo in carcere, l'Istituto Penitenziario di Foggia e questa è una delle prime iniziative in Puglia, perché in Italia lo abbiamo nel carcere di Bollate, vicino a Milano praticamente, in Puglia è la prima iniziativa assoluta e ringrazio il direttore del carcere, la dottoressa Mariella Fatato, che ci ha dato questa possibilità e sarà una sfida che durerà un anno, con l'inizio il 9 aprile, insieme a dei detenuti per cercare di interagire con loro, insieme ai nostri animali e lanciare questa sfida per dare un risultato spero positivo. I detenuti che parteciperanno a questo progetto sono coloro che hanno avuto delle manifestazioni di autolesionismo o hanno tentato il suicidio, quindi parliamo di persone che vivono dei momenti di fragilità e noi davanti a questa fragilità dobbiamo cercare di fare il massimo, chiaramente grazie ai nostri amici animali che ci accompagneranno in questo progetto per cercare di restituire, di ridare fiducia in se stessi e quindi fiducia anche nel prossimo, quindi dovremo cercare di far risvegliare quello che è il senso di autostima in queste persone e questo è un obiettivo fondamentale che il progetto deve sicuramente realizzare, quindi io mi auguro che abbiano dei risultati effettivamente positivi e mi auguro che ci sia molta collaborazione da parte degli stessi detenuti, insomma noi tendiamo la mano da una parte, spero che loro siano pronti a cogliere quello che più di positivo vogliamo trasmetterli.